Due squadre di operai al lavoro per ripulire le aree sterrate adibite a parcheggi per le auto nei pressi di Vincenzo Mare a Pozzuoli. L'operazione di bonifica voluta dall'assessorato all'ambiente ha richiesto più giorni di intervento, nel corso dei quali operai del Dipartimento Igiene Urbana del Comune di Pozzuoli hanno provveduto a riqualificare la zona rimuovendo dei triti e rifiuti che si erano accumulati nel tempo in vari punti. E' stirpato le erbacce lungo i muretti che cingono le aree ed effettuato un'opera di derattizzazione. La pulizia ha però richiesto più tempo del previsto anche a causa di automobilisti per così dire distratti che ignorando il cartello antistante l'area che riportava giorni e fasce orarie durante i quali era vietata la sosta proprio per consentirne la pulizia, avevano parcheggiato lì le proprie auto. Molti accorgendosene per tempo hanno provveduto a portarle via, per una decina di loro invece è dovuto intervenire il carroattrezzi. Liberata l'area, il bobcat ha potuto procedere con la rimozione dei detriti e dell'acqua stagnante dovuta alle forti piogge dei giorni scorsi. Si è trattato essenzialmente di un intervento igienico-sanitario, affermato l'assessore all'ambiente Franco Cammino, che ha seguito di persona le operazioni di bonifica. Si è inoltre provveduto a ripianare in qualche modo le buche presenti nelle due aree con l'impiego di nuovo terreno. Interventi di natura temporanea, considerato che le due aree sterrate che si trovano all'inizio di via Napoli all'intersezione con via Matteotti rientrano nel piano dei lavori più Europa, che dovrebbero cominciare a breve e che prevedono appunto un intervento di sistemazione definitiva.